La notizia del trasferimento delle riserve d'oro della Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha occupato molti titoli dei giornali, sia nella carta stampata che su internet. E' lecito porsi una domanda. Quali lezioni ha da insegnarci la Bundesbank, la cui riserva d'oro è seconda soltanto a quella degli Stati Uniti? Primo, l'oro è per il lungo termine e la Bundesbank non ha nessuna intenzione di venderne, almeno fino al 2020. Sia la quantità che le percentuali menzionate indicano che la banca pianifica di possedere ancora tra 7 anni tutte le 3390 tonnellate circa. Secondo, è bene tenere l'oro dove sia possibile rivenderlo. Non serve a molto possedere oro se non è possibile rivenderlo quando serve. Per questo la Germania non lascerà oro a Parigi. Diversamente da New York e Londra, Parigi non è più un mercato importante per l'oro. In un comunicato, la Bundesbank ha chiarito che, se dovesse nascere un'emergenza, la priorità è di avere la possibilità di vendere l'oro immediatamente. Quindi il 37% dell'oro rimane alla Fed di New York e il 13% attualmente a Londra non verrà spostato. Terzo, la Bundesbank distribuisce il rischio geografico. Su internet si legge che la Germania sta rimpatriando l'oro. Come si vede, è vero solo in parte. Solo un quinto viene trasferito a Francoforte e nell'arco di 7 anni. Il 50% rimarrà all'estero. Avere la possibilità di vendere subito è una delle ragioni. Mantenere oro all'estero serve a proteggere da un'eventuale invasione. Alla fine dei conti, insomma, la Germania mantiene le proprie riserve d'oro, la propria assicurazione, sicura e pronta in caso si presentasse una crisi di enorme portata. Gli investitori privati hanno la facoltà di fare altrettanto, distribuendo il rischio politico in maniera altrettanto semplice e sicura. e con un prezzo molto più conveniente rispetto all'acquisto di monete o lingottini da nascondere in casa. Per informazioni e per sapere come comprare oro a Zurigo, Londra o New York, visita bullionvolt.it